Una squadra che si muove insieme, si muove in unisono, è una squadra che non perde tempo perché grazie a questo rapporto con i magistrati riusciamo a ottenere le autorizzazioni di cui abbiamo bisogno nel giro di pochissimi minuti, neanche di ore. Una squadra che ha lavorato per tre anni e mezzo senza un attimo di sosta, senza Natale, senza Pasqua, senza Ferragosto. Soltanto così si ottengono questi straordinari risultati. Questi soggetti sono particolarmente scantri, hanno una particolare vocazione alla natitanza perché tutta la famiglia è stata natitante per anni e fanno tesoro delle attività investigative che purtroppo vengono disvelate nel corso dei processi, nel corso delle attività poi giudiziarie su seguenti anni a indagini. Per cui è sempre una corsa d'ostacolo, è sempre più difficile, ora si attrezzano anche tecnologicamente per sfuggire anche le nostre indagini noi dobbiamo essere non solo a un passo, ma essere un passo avanti a Moro per riuscire a raggiungere risultati come noi di oggi.